Domestica infedele e dalla mano lunga, specializzata in furti di gioielli. Le sue vittime e i componenti di una famiglia di Galatina, presso la quale la donna prestava servizio già da un po' di tempo. Nel corso dei mesi, la donna, cinquantenne, anche lei di Galatina, si era impossessata di una collana, di una crocetta in oro, nelle ultime ore anche di un paio di orecchini custoditi in un cofanetto. Questa volta però la proprietaria se ne accorta, cogliendo la ladra sul fatto la cinquantenne aveva nascosto i gioielli nella borsetta e lì li hanno trovati gli agenti del commissariato di Galatina, arrivati in casa poco dopo, chiamati dalla proprietaria. Per lei è scattato l'arresto in flagranza per furto aggravato. La donna era sì incensurata ma recidiva. Le indagini hanno infatti dimostrato che la responsabile della misteriosa sparizione di una serie di oggetti di valore era sempre lei. Sia la collana che il ciondono erano infatti stati venduti lo stesso giorno del furto in un negozio di compra oro per la somma di 650 euro intascati dalla cinquantenne. I gioielli sono stati tutti recuperati e restituiti alla legittima proprietaria. La donna è stata processata per direttissima.